chi vorresti chiamare vuoi ascoltare i messaggi in un letto o scriverne uno nuovo in periferia fa molto caldo mamma stai tranquilla sto arrivando te la prenderei per un bugiardo ti sembrava amore ma era altro beve champagne sotto ramadana alla tv da noggia chichiana un manarchile mi chiede come va mi chiede come va, come va, come va sai già come va, come va, come va penso più veloce per capire se domani tu mi pregherai non ho tempo per chiarire non ho tempo per capire se domani tu mi pregherai